L'Istituto Enrico De Nicola di San Giovanni La Punta è presente nel territorio con diversi indirizzi di studio. Turismo, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing, costruzioni, ambiente e territorio. L'Istituto vanta dotazione all'avanguardia, aule multimediali, attrezzati laboratori e un importante complesso sportivo. Spiccano i progetti PON, gli stage in Italia e all'estero, i corsi sportivo, operatore del benessere e il serale per adulti.